Si è svolto sabato scorso a Pertosa presso il Mida 1 il workshop sulla sicurezza alimentare di sistemi di prevenzione e comunicazione dei servizi sanitari veterinari. Organizzato dall'Istituto Superiore della Sanità in collaborazione con la Fondazione Mida, l'evento è stato l'atto finale di una serie di moduli e incontri formativi che hanno coinvolto tutti gli operatori dell'ASL Unica di Salerno e nello specifico i medici del Sian, quelli del Dipartimento Veterinario e di Tecnici della Prevenzione. I moduli tenuti nella provincia di Salerno consistevano nell'elaborazione da parte di gruppi di medici e tecnici di sistemi di procedure coordinate per garantire efficaci servizi nell'intera ASL, ma anche progetti di informazione e comunicazione delle tecniche di prevenzione e di assistenza veterinaria nella nuova ASL Unica. L'occasione è stata utile per presentare i progetti elaborati dai gruppi alla presenza del dirigente nazionale dell'Istituto Superiore della Sanità settore veterinario Agostino Macri.